Rottamiamo e superiamo un certo modello di diritto del lavoro, allo stesso tempo superiamo l'articolo 18 e il CoCoCo e il CoCoPro. Passaggio molto interessante, cioè per la prima volta c'è una generazione che può vedere la politica a fare la guerra, non ai precari ma al precariato, per la prima volta c'è una generazione che vede finalmente riconosciuto il proprio diritto ad avere delle tutele maggiori rispetto a quelle avute fino ad oggi, ma qualcuno potrà dire beh però se voi mettete la possibilità del superamento dell'articolo 18 il tempo indeterminato come lo abbiamo conosciuto non consentirà, non sarà molto diverso dal resto, questa è l'accusa che ho letto in alcuni giornali, siti, news, articoli. Permettetemi di dire con molta serenità che parole come mutuo, parole come ferie, parole come buon'uscita, parole come diritti entrano nel vocabolario di una generazione che ne è stata fino ad oggi esclusa in modo inaccettabile.